buongiorno a tutti amici e benvenuti alla bianco auto oggi vi voglio presentare questa vettura fantastica audi a3 2000 turbodiesel 150 cavalli versione ambition anno 2014 58 mila chilometri praticamente nuova sono sempre vetture che arrivano dalla germania ex dipendenti audi direttamente da ingostad sono nuove fuori e dentro tagliandi certificati chilometraggio certificato vettura con fari allo xeno posteriori a led ruote in lega sensori parcheggio posteriori climatizzatore automatico bizona sedili riscaldati fare automatici cruise control volante multifunzione specchietti richiudibili elettricamente audi sound system predisposizione navigatore satellitare bluetooth e media interface vetture che noi ogni tanto ne abbiamo adesso questa qua è colore grigio monsone metallizzato ogni tanto ne abbiamo anche delle nere delle bianche delle grigie il prezzo che noi proponiamo questa vettura è fantastico 19 mila e 900 euro più spese di matricolazione e messa in strada la vettura la proponiamo sempre con 24 mesi di garanzia prima di essere consegnata passa nella nostra officina a cui viene sottoposta a più di 110 controlli ci trovate a motta di costiglione d'asti sito internet biancoauto.it dove troverete questa e tutte le nostre vetture telefono 0141 96 92 14 veniteci a trovare vi faremo vedere le vetture ve le faremo provare e eventualmente valuteremo il vostro usato se lo avete ciao a tutti amici e alla prossima